Playoff, Blue Island San Margareth, 0-0, secondo tempo Partita molto equilibrata, mi aspettavo qualche gol in più Ciò dimostra che questi due minuti forse saranno molto molto belli Bello l'uscita di Orlando ma forse una piccola ginocchiata in faccia Andiamo a vedere cosa si è fatto Possibilmente non l'ha fatto apposta, conosco il bellissimo Pippo, un bravissimo ragazzo E' un po' di ghiaccio di acqua Ghiaccio in faccia con un vetro E' un po' di ghiaccio Sta parlando arabo, come io? Come? Non ho capito Adesso, io parlo un po' di tuta i capelli A casa li fanno entrare con questi capelli? A casa io mi fanno entrare se sei capelli così, sai? Guardate signori barbiere di Manuel Anzi, insomma il suo barbiere è Vittorio Menicocci E' vero? Guarda Menicocci, guarda Stile Menicocci, ormai San Margareth è tutti con la crista Vabbè, chiudiamo il collegamento, questo è un bruttissimo Penso che lo eliminerò il video Addio ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima